bentornati amici una nuova recensione dopo una pausa forse di almeno un anno dovrei controllare la data dell'ultimo video e sono contento di ricominciare anche se non ricomincio diciamo in quarta spero di riuscire a darmi da fare di riprendere con una discreta regolarità con i video almeno riuscire a farne 5 6 al mese con qualcosa del genere non sarebbe male allora come state sto ricominciando in onore delle 300.000 visualizzazioni totali dei video di questo canale e dei 2000 iscritti o meglio del superamento dei 2000 iscritti perché ormai siamo quasi a 2100 se non sbaglio è un grandissimo risultato che non mi aspettavo assolutamente di ottenere quando ho aperto il canale è un settore estremamente di nicchia è un canale in lingua esclusivamente italiana detto ciò direi che 2000 iscritti sono un risultato enorme e mi piacerebbe riuscire anche a tirarlo un pochino su vediamo se ci riusciamo cominciamo con la recensione di uno degli ultimi speedcube usciti sul mercato precisamente fatemi vedere ecco qua il valk 3 ispirato il nome ispirato all'omonimo speedcuber prodotto dalla kigi e si tratta di uno speedcube estremamente estremamente veloce molto molto veloce e incontrollabile vedete si overshoota con estrema facilità taglio è spaziale il taglio inverso mi metto un attimo in favore di camera il taglio inverso a questo livello lo fa senza nemmeno far forza ecco diciamo più o meno questo livello non si sente neanche manco a dirlo taglio a 45 gradi anche abbondanti non ve ne accorgerete nemmeno è un cubo estremamente veloce ed estremamente valido vediamo i pezzi spigoli solito sistema dei torpedo con in più questo pezzo che si blocca tra i centri quindi diciamo un meccanismo a due vie antipop angoli anche questi molto molto classici molto scavati come si vede qui sulla struttura interna sui centri sul core eccetera c'è veramente poco da dire perché non si tratta di una grande innovazione però nell'insieme la qualità delle plastiche non è male forse un pochino troppo leggero per i miei gusti per i miei gusti soprattutto è un cubo troppo veloce io spesso e volentieri in capo in qualche piccolo lock up ma dipende dai miei limiti sono uno speedcuber da 20 secondi circa di media quindi diciamo che è un cubo che può andare molto bene agli speedcuber estremi probabilmente lo suggerirei a chi ha medie diciamo dai 10-12 secondi in giù che altro dire ma forse nient'altro ecco gli sticker sono gli originali che trovate quando lo acquistate e sono sinceramente molto molto belli personalmente li cambierei solamente per manie ossessivo-compulsive che mi contraddistinguono perché non è assolutamente necessario sono ben messi coincidono perfettamente con i pezzi la qualità è un vinile il blu è particolarmente scuro quindi a me non fa impazzire il rosso idem mi piacciono più accesi però lì è questione di gusti gli scavi la Florian Mode come vedete un po' come avviene in tutti i cubi di ultima generazione vedete il Guns Air che recensirò tra qualche giorno perché ce l'ho in arrivo a casa la Master Edition vedete che gli angoli sono squadrati mentre il centro è tondeggiante e questo sistema non crea problemi per quanto riguarda il taglio inverso perché in realtà il centro vedete entra in questo la cerco di portarvi come vedete nel taglio inverso l'angolo va a superare la linea del centro e il centro entra in uno scavo tondeggiante all'interno del pezzo quindi con questo sistema si va a ottenere il taglio inverso non ho altro da dire su questo cubo è un cubo assolutamente validissimo da 1 a 10 gli possiamo dare un 9 solamente perché 10 non lo si può mai dare un cubo perché tra un mese, fra due mesi, fra un anno uscirà per forza un cubo superiore quindi al momento è un top di gamma non costa tantissimo però lo consiglio a chi fa medie veramente molto molto basse personalmente amo i cubi un po' più controllabili perché posso aumentare la forza delle dita e mantenerne il controllo mentre con un cubo così devo stare molto attento e moderare la forza nelle rotazioni perché se accelero un pochino rischio o di farlo esplodere cosa comunque molto difficile perché è un ottimo meccanismo anti pop oppure di ottenere dei lock up o di perdermi in qualche algoritmo detto ciò ci vediamo al prossimo video che sarà del Weilong GTS ciao